In questo video parleremo dello stile di attaccamento, che è qualcosa di molto importante, perché ognuno di noi ha uno stile di attaccamento che si è sviluppato dalla prima infanzia e che continua a influenzare il modo in cui ci rapportiamo, ci relazioniamo con gli altri. Anche nelle relazioni sentimentali, anche da adulti, e quindi comprendere quello che è il nostro stile di attaccamento, può essere estremamente illuminante, perché ci aiuta a classificare, anche a identificare quali modelli comportamentali abbiamo e quali dinamiche relazionali si ripetono e spesso ostacolano anche la nostra possibilità di costruire delle relazioni sane e appagante. E allora in questo video esploreremo i quattro principali stili di attaccamento e analizzeremo le caratteristiche distintive e quali implicazioni hanno sulla nostra vita di coppia. Innanzitutto parliamo quindi e spieghiamo che cosa intendiamo per attaccamento. Allora, l'attaccamento è un legame emotivo profondo che si sviluppa tra un bambino e la persona che lo accudisce, generalmente un genitore potremmo dire, il caregiver dicono nel paese anglosassone, il caregiver principale, che generalmente è la madre. Secondo questa teoria che è stata sviluppata da John Bowlby, uno studioso inglese molto importante per la psicologia, questa connessione psicologica durevole è essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo di un bambino. Allora, Bowlby quindi ha identificato quattro caratteristiche distintive che sono il desiderio di mantenere la prossimità e la vicinanza con la figura di attaccamento, il rifugio sicuro che questa rappresenta, la base sicura da cui un bambino può esplorare il mondo e il disagio che può provare un bambino quando questo viene a mancare, quando c'è l'assenza di questa sicurezza. Accanto a questo potremmo dirci quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo degli stili di attaccamento. Sempre secondo Bowlby i fattori che influenzano lo sviluppo, lo stile di attaccamento sono principalmente tre e sono dei fattori che potremmo dire chiave. Il primo è che si parla di cura costante perché quando c'è questa cura costante questa trasmette e porta fiducia al bambino. E quindi quando i bambini crescono con la certezza che la persona che li accudisce, il caregiver principale, sarà sempre disponibile per loro, è meno probabile che provino paura in confronto ad esempio invece a quelli che vengono cresciuti senza che abbiano questa fiducia e convinzione dell'essere sempre accuditi. Perché le prime esperienze sono fondamentali. Le aspettative e i modelli di attaccamento che si formano durante l'infanzia, l'età evolutiva, dell'adolescenza, tendono a rimanere relativamente potremmo dire invariati poi per il resto della nostra vita. E molte delle aspettative che ci ritroviamo derivano proprio dalle esperienze che viviamo perché i bambini sviluppano le aspettative sul loro caregiver e in base alle precedenti esperienze di reattività, di disponibilità, di capacità di cura, poi proiettano la fiducia nelle relazioni successive. Adesso però approfondiamo quelli che sono i quattro stili di attaccamento che sono stati evidenziati. Partiamo dal primo che è lo stile di attaccamento sicuro. Chi ha uno stile di attaccamento sicuro si sente generalmente a proprio agio nell'intimità e nella vicinanza alle altre persone soprattutto sotto un aspetto emotivo. E addirittura si sente in grado di fidarsi dei propri partner, di esprimersi, esprimere liberamente le proprie emozioni, mantenere dei confini relazionali sani con le altre persone e soprattutto col partner. Perché avendo uno stile di attaccamento sicuro che da loro fornisce loro fiducia, non è una persona che è in grado di fidarsi del proprio partner, di esprimere liberamente anche le proprie emozioni e comunque mantenere dei confini relazionali sani. Permettono poi il rispetto di entrambe le differenze e, davendo questo attaccamento sicuro, tendono anche ad essere affettuosi, comunicativi, attenti anche ai bisogni del proprio partner. Però, allo stesso tempo, non hanno paura di passare del tempo, trascorrere del tempo in solitudine o di lasciare che il partner possa anche inseguire i propri interessi. Potremmo dire che questo stile di attaccamento favorisce delle relazioni che sono equilibrate in cui entrambi i partner si sentono rispettati, amati, ma anche liberi di essere se stessi. E anche, se vogliamo approfondire l'aspetto della comunicazione e della fiducia, le persone con questo tipo di, con questo stile di attaccamento sicuro, sono in grado di comunicare apertamente e onestamente con il partner, sono disposte a condividere i propri pensieri e sentimenti, anche quelli più fragili, vulnerabili, attaccabili, perché non hanno il timore di essere giudicati e soprattutto di essere abbandonati. Tra l'altro, questa trasparenza emotiva contribuisce a costruire una base solida di fiducia e di intimità all'interno della relazione. E se puntiamo il focus sulla indipendenza e sulla interdipendenza, dobbiamo anche aggiungere che le persone che hanno questo stile di attaccamento sicuro riescono a mantenere un sano, potremmo dire, equilibrio tra l'essere indipendenti e l'essere anche interdipendenti all'interno della relazione, perché sono in grado di soddisfare quelli che sono i propri bisogni individuali, ma anche sono in grado di non trascurare il proprio partner, cioè allo stesso tempo di essere anche presenti emotivamente e anche di supporto nelle relazioni. E per quanto riguarda la gestione del conflitto all'interno della relazione, la persona con questo stile di attaccamento tende ad affrontarli in modo più costruttivo, cioè è in grado di esprimere i propri punti di vista, di ascoltare anche attentamente il proprio partner e di cercare soluzioni che soddisfino anche le esigenze di entrambi. Prima di andare avanti con gli altri stili di attaccamento, ne mancano ancora tre, voglio però dirti che se vuoi all'interno del blog fabiomazza.eu troverai l'articolo completo con anche tutti i riferimenti bibliografici che possono aiutarti ad approfondire questo argomento. Andiamo avanti. Il secondo stile di attaccamento è quello ansioso preoccupato. Le persone che hanno uno stile di attaccamento ansioso preoccupato tendono ad avere una visione negativa di sé e una visione positiva invece degli altri. Come si traduce? Si traduce in una costante, potremmo dire, preoccupazione riguardo all'amore, all'impegno del proprio partner. Queste persone che hanno questo stile di attaccamento spesso hanno bisogno di continue rassicurazioni e possono essere inclini anche alla gelosia nel rapporto perché crea una costante insicurezza e bisogno di approvazione perché lo stile di attaccamento ansioso preoccupato lascia le persone che hanno questo tipo di stile spesso insicure nella relazione e quindi hanno davvero molto bisogno di ricevere conferme e approvazione continua dal proprio partner. Questa ricerca di rassicurazione può però, come potremmo dire, danneggiare la relazione se è una relazione a lungo termine perché porta un'altra caratteristica che è quella di essere sempre molto vigilanti di avere molti comportamenti di controllo. Quelli che hanno questo stile di attaccamento ansioso e preoccupato sono spesso molto attenti ma non in un senso di accudimento e amorevole sono anche molto attenti a controllare a potenziali segnali di rifiuto a potenziali segnali di abbandono che sono i più grandi terrori che li albergano e questo può portarli a mettere in atto comportamenti di controllo come chiamate, messaggi frequenti anche a volte la minaccia di terminare la relazione o tentativi di creare gelosia nel proprio partner per attirare l'attenzione. E purtroppo potremmo anche dire che questo tipo di stili di attaccamento potrebbe creare difficoltà nella formazione di relazioni sane cioè potrebbe rendere difficile la creazione e anche il mantenimento di relazioni equilibrate perché nonostante il desiderio di intimità la paura del rifiuto e dell'abbandono può essere come un sabotatore e sabotare quindi la capacità di stabilire quelli che potremmo definire dei legami sani e duraturi e ora il terzo tipo di attaccamento è quello evitante e quelli che hanno questo stile di attaccamento tendono poi a avere una visione positiva di sé ma una visione negativa delle relazioni quindi danno più importanza all'indipendenza e all'autosufficienza piuttosto che all'intimità emotiva e allora si sentono a disagio nel momento in cui vanno ad avvicinarsi a una persona quindi entrano in intimità perché vivono una forte vulnerabilità nelle relazioni e purtroppo è evidente che vivendo un distacco emotivo e una difficoltà nello stabilire della fiducia con il proprio partner l'attaccamento evitante spesso fa apparire le persone molto distanti distaccate emotivamente tutto è questo è perché hanno difficoltà a fidarsi degli altri a esprimere quelle che sono le loro emozioni perché preferiscono mantenere le relazioni soprattutto quelle sentimentali a un livello più superficiale perché lo percepiscono come pericoloso e quindi si vive cercando di evitare l'intimità perché chi ha uno stile di attaccamento evitante tende proprio ad evitare l'intimità emotiva e non solo quella emotiva ma anche l'intimità a livello fisico anche a livello relazionale possono anche incontrare altre persone e avere delle situazioni di relazioni sentimentali ma cercano di farlo senza impegnarsi a lungo termine e questo però crea una difficoltà perché in primo luogo hanno maggiori probabilità di sperimentare anche dei problemi all'interno della relazione quindi viversi anche un livello di insoddisfazione perché la tendenza che hanno a preferire a privilegiare l'indipendenza a evitare comunque a tutti i costi di essere fragili e di essere vulnerabili può in effetti creare una distanza emotiva col proprio partner e quindi creare un ostacolo per creare legami duraturi stabili, soddisfacenti quarto stile di attaccamento potremmo chiamarlo un attaccamento disorganizzato e le persone che hanno uno stile di attaccamento disorganizzato generalmente hanno sia una visione negativa di sé e sia una visione negativa degli altri quindi provano un forte desiderio di intimità ma allo stesso tempo temono il rifiuto e l'abbandono il che li porta a evitare proprio le relazioni perché la paura dell'intimità li porta nonostante il desiderio a volere un contatto con gli altri ad essere sentirsi proprio paralizzati dalla paura di essere rifiutati allora questo porta a mettere in atto dei comportamenti anche confusivi come evitare il contatto fisico o emotivo con il proprio partner questo li porta ad avere delle difficoltà anche nella gestione delle emozioni perché spesso faticano proprio a gestirle cioè possono costantemente oscillare dal desiderio di essere più vicini e intimi e la paura di essere poi feriti e questo crea un, come potremmo chiamarlo un circolo vizioso che va dall'approcciare all'evitare le relazioni e quindi tutto questo è molto disorganizzato e confusivo possiamo quindi capire che questo tipo di attaccamento lo stile di attaccamento disorganizzato crea gravi conseguenze anche nelle relazioni perché la paura del rifiuto e anche la corrispondente incapacità di fidarsi degli altri possono portarti ad un isolamento emotivo a relazioni instabili, insoddisfacenti quindi potremmo dire che lo stile lo stile di attaccamento che abbiamo avuto e lo stile di cure che abbiamo avuto quando eravamo bambini nella nostra infanzia potrebbe essere quasi un predittore di possibili stili poi di relazioni sentimentali e di coppia perché potremmo riassumere facendo un piccolo elenco che le persone con l'attaccamento sicuro sono persone che tendono ad avere relazioni durature e basate sulla fiducia quindi ci sono anche gli alti livelli di autostima alta capacità di condividere i propri sentimenti col partner sono quindi più inclini a cercare supporto sociale e anche a godere delle relazioni intime chi invece ha un attaccamento di tipo ansioso spesso si sentono riluttanti a stringere legami perché sono preoccupati che il partner in fondo non li ami e ciò porta a frequenti rotture anche nelle relazioni perché temono che se entrano in intimità con l'altro e l'altro li tradisce o elude o spezza questa loro fiducia questo potrebbe essere sconvolgente per loro chi invece ha un attaccamento di tipo evitante ha difficoltà con l'intimità e le persone soprattutto quando diventano le relazioni molto strette perché investono poche emozioni nelle relazioni e provano poca angoscia quando una relazione finisce e sono più magari interessati ad avere brevi relazioni non relazioni durature proprio perché non riescono a fidarsi dell'altro chi invece ha un attaccamento di tipo disorganizzato purtroppo mostra proprio come potremmo dire una miscela, un mix confuso di comportamenti un po' ansiosi dell'amore del partner un po' evitanti nelle relazioni e hanno quindi un forte bisogno di connessione non vorrebbero rimanere sempre distaccati ma faticano a fidarsi e a sentirsi fragili e vulnerabili col partner e quindi possono tranquillamente sabotare le relazioni proprio per questo tipo di ambivalenza proprio per questo tipo di situazione conflittuale che vivono al loro interno allora in conclusione potremmo dire che comprendere i nostri stili di attaccamento è qualcosa che è molto importante per migliorare la qualità delle nostre relazioni perché conoscere vuol dire riconoscere e allora attraverso la consapevolezza dei nostri modelli relazionali possiamo lavorare per superare queste sfide che ci appaiono impossibili sviluppare nuovi legami più sani più appaganti perché questi stili che sono formati nell'infanzia possono essere anche migliorati modificati nella nostra vita se una persona può lavorarci sopra con impegno, con determinazione facendosi aiutare ad esempio facendo un percorso terapeutico con un professionista con un terapeuta con uno psicologo che sia in grado di modificare di leggere e modificare questi stili di relazione che influenzano così tanto il benessere delle persone anche in età adulta se sei arrivato fino a questo punto se ti piace il modo in cui io parlo di questi argomenti se ti piace il modo in cui io gestisco questo canale se non l'hai ancora fatto ti chiedo allora di iscriverti perché è un gesto gratuito per te ma che è molto importante per me e per il canale stesso perché è anche un segno di riconoscimento dell'impegno nel divulgare questi argomenti grazie a tutti i nostri spettatori